La variante Omicron del Covid? Ho detto tantissime volte che questo virus non andrà via. L'ho ripetuto. Anche con grande frustrazione e dispiacere. Ma è così. Non c'è nulla di sorprendente in quello che sta accadendo. È successo con altre pandemie e con altre malattie infettive. Non capisco la sorpresa. Sappiamo che, più il virus circola in popolazioni non vaccinate e più è possibile che si selezionino delle varianti. Sappiamo che in Africa il tasso di copertura vaccinale è bassissimo. Che alcune varianti ci daranno filo da torcere. Che non è detto che quest'ultima sia fra queste. Prima di terrorizzare le persone e di far partire l'allarme che percepisco, bisogna analizzare Omicron e fare molte valutazioni. Gli europei devono rendersi conto che l'unico strumento di cui disponiamo è il vaccino. Lo ha detto in un'intervista alla stampa la virologa Ilaria Capua. A capo dell'ONE Health Center dell'Università della Florida. L'ansia e la paura non servono a niente. Le uniche cose che servono sono quelle che sappiamo. Rispettare le distanze di sicurezza. Evitare i luoghi affollati senza protezione. Soprattutto se non si è vaccinati. Non stare tutti appiccicati. E alzare il più possibile il muro della vaccinazione. Ovvero lo strumento più adeguato a gestire il momento che stiamo vivendo, ha avvertito la virologa.